Ciao ragazzi, finalmente oggi possiamo parlare del primo episodio di Attack on Titan The Final Season, che sì, mi è piaciuto tantissimo. Intanto vi ringrazio per essere stati tantissimi in live su Twitch mentre lo guardavamo, e adesso ci darei a fare un breve riepilogo di tutte le nozioni necessarie per capire al meglio un po' tutto ciò che è successo. Quindi, per chi non ha le idee chiare su ciò che ha appena visto, ecco che cosa dovete sapere. Chi sono questi Marleyani e questi Eldiani? Ecco, i primi sono coloro che in un certo senso controllano, hanno il potere sui secondi, sugli Eldiani. Questi ultimi hanno il potere dei giganti e vengono usati come cavie da questi Marleyani per le loro conquiste. Per farvi un esempio, gli Eldiani li abbiamo visti nella terza stagione, durante quella parte in cui si è scoperto praticamente tutto nella cantina, abbiamo visto un flashback in cui Grisha, il padre di Eren, si è saputo chi fosse realmente, ossia appunto un Eldiano, un medico Eldiano. E Grisha voleva per l'appunto liberare e far tornare allo splendore proprio la città di Eldia. Poi abbiamo visto che cosa è successo effettivamente nella terza stagione, tutti i problemi che ci sono stati. E chi sono questi nuovi personaggi che hanno introdotto nella prima puntata e che sembrano essere dei nuovi protagonisti magari di questo arco narrativo? Come la ragazzina Gabby che in questa puntata è praticamente quella che ha fatto di più e che tra l'altro per ora mi sta simpatica, anche se molti dicono che la odiano, ma è molto determinata e sicura di sé e questo atteggiamento mi piace. Proprio vanitosa, al 100%. Poi abbiamo Falco, Sofia, eccetera. Praticamente questi qui sono coloro che dovrebbero sostituire il gigante corazzato, ossia Reiner. Invece l'altro ragazzo di nome Colt è colui che dovrà sostituire Zeke, cioè il gigante bestia. Quando dico sostituire significa che dovranno ereditare il loro potere da gigante. Hanno introdotto comunque un botto di personaggi come anche il gigante Mascella, eccetera, eccetera. Però comunque li approfondiranno sicuramente più avanti. Madonna, quanto è figo! Sono passati diversi anni dalla riconquista di Shiganshina, cioè praticamente dall'ultimo atto eroico e strafigo che abbiamo visto nell'ultima stagione. Ultima nel senso quella che è uscita per ultima prima di questa, perché questa è l'ultima, quindi intendevo nella terza stagione, ok? Avete capito? Questa cosa non è intuibile da subito, magari potrebbe anche sembrare un flashback all'inizio questa puntata, ma poi appena appare Reiner con la barba, strafigo, maturato, ecco che effettivamente tutto torna. Ante bello Reiner, mamma mia! L'ambientazione è qualcosa di fenomenale, come anche la storia, perché se ci pensate è come se fosse una sorta di prima guerra mondiale per quello che vediamo, infatti si tratta di una guerra di trincea, che però è mischiata un po' alle tematiche, a ciò che avviene nella seconda guerra mondiale. Infatti a me sembra proprio che gli Eldiani rappresentino gli ebrei, mentre i Marleiani rappresentino i tedeschi. Potreste paragonarli così per capire meglio la situazione. Quindi in breve questa introduzione che abbiamo visto nella prima puntata, altro non è che uno scontro in cui i Marleiani e gli Eldiani sono alleati, per modo di dire anche se si odiano alla fine, ma che stanno combattendo con un popolo medio orientale, come ha detto la narratrice, verso la fine della puntata. Quindi niente di importante. Tra l'altro possiamo notare che nonostante abbiano vinto questa battaglia, alla fine i Giganti non sono più così forti come prima. Ma non perché si siano indeboliti, ma perché come abbiamo visto c'è stato un avanzamento tecnologico in questi anni, che quindi comincerà a metterli sempre di più alle strette. Quanto è bello quando si butta così! Una citazione alla prima stagione, tra l'altro. A proposito di questo, bellissima la scena in cui Zeke, trasformato in Gigante e Bestia, lancia tutta quella roba contro una flotta navale, ma poi gli viene rispedita indietro. È bellissimo il modo in cui hanno gestato la scena e come l'hanno rappresentata poi con la musica di sottofondo, che è quella del trailer. Mamma mia, che bella! Che è successo? Tutti quei Giganti che si trasformano quando cadono dall'aereo, mamma mia, era stato troppo figo. Tutti insieme qua! Fantastico anche il finale in cui sembra di rivedere Jeanne. E questa cosa è molto interessante, anche lui maturato con la barba, tutto figo. Mostrami la tua faccia, per favore! Di queste cose comunque ne troveremo conferma nelle prossime puntate. Quindi musiche fenomenali, quasi tutte nuove, imponenti, orchestrali, ragazzi, mi sono saliti i brividi. L'opening, come ho già detto nella reaction, a me piace molto. Lo so che ad alcuni non è piaciuta, perché è molto diversa dalle precedenti, però secondo me è davvero adatta a questo nuovo contesto che si sta creando in Attack on Titan. Perché sì, i Link to Horizon erano perfetti per quello che era prima Attack on Titan, ma adesso è cambiato tutto, l'atmosfera è cambiata e secondo me quest'opening è perfetta. Anche l'ending poi mi è piaciuta moltissimo. Tantissime persone si sono lamentate della CGI, della computer grafica dei giganti, ma stiamo scherzando. È fatta molto, molto, molto meglio delle precedenti stagioni, che ci lamentiamo a fare? Questa è CGI. Ma è fatta bene, non lamentiamo, ci è fatta benissimo. Le animazioni e la regia di questa puntata è di un livello altissimo. Io mi sentivo proprio immerso in questi scontri. Era necessario aggiungere della CGI nei giganti, e vi dico che è stata fatta benissimo. In alcune scene nemmeno si notava troppo. I giganti erano ottimi, soprattutto nelle scene di dinamicità e di movimento, quindi lamentarsi di questo non ha veramente alcun senso. Io sinceramente faccio i complimenti allo studio mappa, perché secondo me rispetto al gigante colossale che avevamo visto nella terza stagione, qua la situazione è decisamente migliore. È stata una puntata ricca d'azione e di dinamicità, sicuramente le prossime si calmeranno perché saranno necessarie appunto delle spiegazioni, però sappiate che prima o poi, anzi secondo me già fra qualche puntata, ritornerà ad esserci chissà cosa di incredibile. La vera storia che ruota attorno al mondo di Attack on Titan inizia adesso, nonostante praticamente questa qui si chiami ultima stagione, quindi è come se fosse praticamente l'inizio della fine. Comunque è vero, non è una stagione semplice da seguire perché tutto si sta rendendo sempre più complesso. Diamo tempo al tempo, cerchiamo di chiarirci soltanto queste nozioni base perché comunque verranno spiegate, il tutto ci verrà chiarito più avanti, ma a prescindere da ciò godiamoci quello che vediamo. Non è necessario sapere ogni cosa quando si guarda una serie, l'importante è provare delle emozioni, delle sensazioni, l'importante è che ti lasci qualcosa. Quindi noi guardiamoci a Attack on Titan così com'è e poi lo commentiamo. Detto questo ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un mi piace in tal caso, fatevi sapere ovviamente le vostre opinioni qua sotto nei commenti di questa puntata e cosa vi aspettate dalla prossima. Segutemi su Instagram e sui vari social che trovate in vostra descrizione e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Ciao!